Porniamo con il Coro Montecuccoli, lo invito a cominciare a prendere posto. Grazie a tutti per essere qui, bella serata, stiamo come quegli anni, mezz'ora ci vediamo preparati, ma non preoccupatevi, prima o dopo arriviamo, tranquilli, prima o dopo riusciamo a cantare più, esatto, perché poi questo poi alla fine scoppia e non succede assolutamente nulla. Allora, Le Nad, la prima canzone che vogliamo proporre, parla della nattività, naturalmente, Le Nad è nato, è una canzone che forse questo ragazzotto qua con la barba l'ha trovato a te, no? Di qualcosa, non essere timido. No, Le Le Chiodi che ha cantato prima, lui ricerca sempre queste cose su da noi, in montagna, ha trovato anche queste canzoni, parla della nattività ed è stata arrangiata, è stata musicata e noi ve la vogliamo proporre questa sera e questa canzone chiaramente è in dialetto. Oltre a questo brano, il secondo brano, sui monti di Bologna, dovevamo farne un altro, poi facciamo questo per via di problemi di acustica, è una canzone che non sarà in dialetto, parla naturalmente dei partigiani, di una mamma che ha il figlio nei partigiani e parla dei moti di Bologna, di questa guerra che purtroppo ha dilaniato per tanti anni in Italia. Noi vi ringraziamo e cominciamo con Renato, grazie. Renato, grazie. Renato, grazie. Renato, grazie. Renato, grazie. Grazie a tutti. 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 Il canto corale ha sempre un suo grande fascino. Il cono Montecuccoli lo dimostra. Grazie a tutti.